Giuseppe De Luca, nuova avventura, si inizia una nuova stagione, sensazioni quali sono? Le prime impressioni siamo tutti carichi quindi non vediamo l'ora di iniziare il campionato e sicuramente speriamo di fare un campionato migliore dell'anno scorso e sicuramente questa volta di far sognare anche veramente i tifosi. Migliore significa salvarsi con più di due giornate d'anticipo? Sì, 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 sicuramente il nostro primo obiettivo è quello di salvarci, poi penso che quello che verrà in più sarà tutto di guadagnato. Giuseppe De Luca, la Zanzara, quali sono i suoi obiettivi per questa nuova stagione in Serie A? Io l'anno scorso mi ero prefissato un obiettivo, due obiettivi che non si sono esauditi, sicuramente quest'anno il mio obiettivo è di fare più gol per l'Atalanta e per salvarci il più presto possibile, parlo a livello personale e poi vedremo ancora è lunga. Si è nella fase di ritiro precampionato, quindi c'è davanti tutta l'estate, c'è davanti tutta questa preparazione per arrivare a questo 25 di agosto, insomma alla prima di campionato, pronti? Quello sì, quello sì, alla fine noi ci alleniamo mattina e pomeriggio sempre al massimo, quindi per arrivare alla prima giornata subito che stiamo bene di gamba, quindi dobbiamo continuare così e giocarci ogni partita che verrà senza fare troppi programmi e via, altre cose.